San Luigi Gonzaga è nato in una nobile famiglia italiana, a Castiglione dell'Estiviere, vicino a Mantova. La sua famiglia apparteneva alla nobiltà e Luigi era destinato a seguire una carriera militare come il padre. Tuttavia, fin da giovane, Luigi mostrò una grande inclinazione alla vita spirituale e alla preghiera. Ancora piccolo, molte volte fu veduto dai servi e dalla stessa madre in un angolo remoto del palazzo assorto in preghiera. Luigi ricevette una formazione severa e rigorosa, caratterizzata da una forte disciplina spirituale. A soli sette anni fece voto di castità. Dopo un periodo trascorso a Firenze e a Mantova, fu inviato a Madrid, alla corte di Filippo II di Spagna, dove servì come paggio. Nonostante l'opposizione del padre, a 17 anni Luigi decise di entrare nella compagnia di Gesù, i Gesuiti. Rinunciò a tutti i suoi diritti ereditari e si dedicò completamente alla vita religiosa. Nel 1585 entrò nel noviziato dei Gesuiti a Roma, dove si distinse per la sua pietà, l'ascetismo e la dedizione al servizio degli altri. Durante un'epidemia di peste a Roma nel 1591, Luigi si dedicò con grande zelo alla cura dei malati, mettendo a rischio la propria vita. Fedele al motto, come gli altri, cioè, dimentico delle proprie origini nobili come dei privilegi derivanti dal suo stato di salute, Luigi va tra gli appestati per curarli e soccorrerli al fianco di San Camilo dell'Ellis. Un giorno scorge un malato abbandonato in strada, in punto di morte. Lo prende sulle spalle e lo porta all'ospedale della Consolata. È così che probabilmente si contagia e pochi giorni dopo muore tra le braccia dei suoi confratelli, a soli ventitré anni. Fu sepolto nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma. Luigi fu canonizzato nel 1926 da Papa Benedetto. È considerato il patrono della gioventù cattolica e degli studenti per il suo esempio di purezza e devozione.